Com'è andata oggi l'allenamento ragazzi? Bravo, bravo mister. Vi piace il metodo Smart Goal? Un bel lavoro, ci vuole, ci voleva. Su che cosa abbiamo lavorato? Situazioni in movimento, tecnica, forza, resistenza. Situazioni che poi crea in partita. Per voi che giocate ai massimi livelli? Parla con lui. Lo consigliamo o no? A parte gli scherzi lo consigliamo perché è veramente un gran lavoro, complimenti. Sì, bravo mister. Grazie a tutti. Ciao.